il principe ferry è stato fotografato mentre lascia la cappella di san giorgio al castello di windsor l'ultima dimora della regina elisabetta seconda il principe ferry ha fatto oggi una visita segreta alla cappella di san giorgio al castello di windsor nell'anniversario della morte di sua nonna la regina elisabetta seconda la king george v memorial chapel che si trova all'interno delle mura della st george chapel è l'ultima dimora della regina è stata sepolta insieme al marito ai genitori e alla sorella in una cerimonia privata dopo il funerale il 19 settembre dello scorso anno un'immagine del duca rilassato con una camicia bianca e pantaloni eleganti che lascia la cappella è circolata sui social media è stato visto lasciare la chiesa intorno a mezzogiorno mentre domani sarebbe dovuto volare a dusseldorf in germania per l'inizio degli invictus games sembra che abbia fatto la visita da solo dato che sua moglie megan markle è ancora negli stati uniti con i loro due figli e i membri della famiglia reale stanno celebrando la giornata in località separate nel regno unito il re carlo e la regina camilla hanno partecipato a un servizio religioso privato a crati kirk vicino al castello di valmoral e il principe e la principessa del galles visiteranno la cattedrale di st davids per un breve servizio ieri ferry è tornato nel regno unito per partecipare ai well chilled awards a londra dove ha consegnato un premio e tenuto un discorso intervenendo alla cerimonia ha detto come sapete l'anno scorso non ho potuto presenziare alla premiazione perché mia nonna è morta come probabilmente saprete sarebbe stata la prima persona a insistere perché venissi ancora con tutti voi invece di andare da lei ed è proprio per questo che so che esattamente un anno dopo ci guarda dall'alto in basso stasera felici di essere insieme continuando a mettere in luce una comunità così incredibile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.